Un pieno da 260 milioni di euro per gli over 35 della Sicilia che non lavorano o che hanno perso il lavoro. È il provvedimento esaminato ieri sera dall'Aggiunta regionale messo a punto dal Dipartimento regionale della formazione professionale, riprogrammando una parte delle risorse del Fondo Sociale Europeo 2007-2014. Il piano, che pronto per l'approvazione dovrebbe diventare operativo a breve, prevede l'attivazione di politiche attive e passive per il reinserimento lavorativo di quarantenni e cinquantenni, oltre a misure straordinarie per gli addetti della formazione professionale. Ma a fare da contropeso a questo nuovo provvedimento le politiche giovanili della regione Sicilia che fanno acqua da tutte le parti. Dopo il flop del piano giovani, infatti, è la volta del bando Creazioni Giovani che rischia di essere annullato. L'allarme è stato lanciato dalla CGL che denuncia il blocco delle graduatorie provvisorie pubblicate ad agosto relativi alla linea Giovani Talenti, alla base della questione e la nomina di alcuni componenti del nucleo di valutazione che non rispetterebbero i criteri del bando. Creazioni Giovani, lanciato dall'assessorato regionale al lavoro nel 2013, stanze a 2,5 milioni di euro per finanziare le migliori attività sociali, culturali e artistiche dei giovani talenti siciliani. Nello specifico 1.150.000 euro per attività artistiche per giovani talenti, 700.000 euro per far avvicinare i giovani ai messeri tradizionali, contraddizionalmente, ed infine circa 800.000 euro per la linea Giovani e Legalità. C'è voluto più di un anno per la pubblicazione delle graduatorie, tra l'altro provvisorie, delle misure 1 e 3, mentre tuttora non c'è traccia di quelle della misura 2. E adesso tutto da rifare. Il blocco della graduatoria comporterebbe l'annullamento della stessa e la costituzione di una nuova commissione esaminatrice. La stessa sorte potrebbe toccare alla misura 3 Giovani e Legalità. Quella di Creazioni Giovani non è che l'ultima di una serie di fallimenti nelle politiche giovanili di Palazzo d'Orlean. Sono infatti 330 i milioni di euro che la regione ha stanziato per piani a favore dell'occupazione giovanile e dei quali, finora, è stato speso quasi nulla.